Buongiorno, è addirittura commovente la preoccupazione di Pietro che introduce il Vangelo di oggi al capitolo 10, versetti dal 28 al 31, che prosegue il testo di ieri dove Gesù ha detto che non è un ricco che entra nel Regno dei Cieli a meno che non ci sia un'azione speciale di Dio che sa compiere l'impossibile, ma è proprio il povero che ha accesso privilegiato nel Regno dei Cieli e con la preoccupazione di Pietro accorata, ma noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito sembra quasi dire che cosa ci guadagneremo, oppure dall'altra parte può cominciare ad entrare in sintonia con quella logica di Dio che è completamente opposta alla nostra, lo spogliarsi del superfluo addirittura anche di quello che può essere importante per fare spazio solo a Dio e quanto ci assicura il cammino verso il cielo noi abbiamo lasciato tutto, che cosa ci guadagneremo? Pietro dà voce anche alle nostre paure, ai momenti in cui ci riempiamo di cose forse di persone, oggi anche di animali o hobby o gusti vari per poter colmare un pochino del vuoto che sentiamo dentro che cosa ci guadagniamo se lasciamo tutto questo? che cosa ci guadagniamo se ci permettiamo di vivere dentro quella paura della solitudine e della finitezza che sta dietro quella corsa affannata ad avere, comprare, accumulare, possedere? Pietro dà voce a tutti noi e Gesù lo tranquillizza se avete lasciato tutto per causa mia e del Vangelo avrete molto di più, cento volte tanto, in tutto, tranne che nel Padre perché di Padre ce n'è uno solo, il Padre dei Cieli colui che appunto dà la motivazione per poter avere il coraggio di liberarsi di quanto diventa un legaccio, un idolo e camminare liberi verso il cammino della vita attenzione però, nel momento in cui si è fatto questo passaggio e Pietro ci arriverà piano piano insieme agli altri discepoli come possiamo arrivarci anche noi nel cammino di sequela a Gesù nel momento in cui lasciamo tutto e ci accorgiamo che invece ci viene restituito cento volte tanto scopriremo la cosa che conta più di ogni altra e cioè che la vita eterna e la gioia che ne è connessa non dipende da queste cose che ci vengono ridate la gioia vera non sta nel centro ma sta nell'incontro con quel Padre che attraverso il Figlio si è rivelato a noi nella sua bellezza e nella sua grandezza la eredità che ci interessa avere è quella del rapporto con Lui il resto è bello, significativo, importante anche ma diventa assolutamente secondario di fronte all'amore che riempie il cuore nella relazione con il Padre attraverso il Figlio per opera dello Spirito Santo è così che gli ultimi diventano primi ultimi perché svuotati anche di quelle cose di cui in qualche modo ci accorgiamo di essere riempiti ultimi perché capaci di dire grazie per tutto lasciandolo però ancora lì come un dono che va restituito e consegnato ultimi perché in fondo senza nessun possesso e nessuna pretesa ma diventiamo primi perché abbiamo scoperto che il senso della vita la gioia, la pienezza ci sono stati dati gratis e sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che vivono in noi buona giornata